Questa misura ha questo livello di tensione dei muscoli, poi andiamo giù all'altro livello, poi andiamo a D4, potrebbe essere T perché è thoracic. Now Claudio, quella sinistra è quella come dovremmo essere, dove i muscoli sono equicontrati, questi sono verdi così, e sinistra, a destra, è come sei tu esatto. Tu devi guardare in avanti, ok, e io metto un po' di luce nei tuoi occhi. Io lo sblocco, se te l'hai un cracrat, niente di dolore. Ok, lascia libera. Ok, inspiro profondo, è fuori, bravissimo, ok, e poi, bravo. Ciao, sono il dottor Tonio Caruso, sono qui con Claudio. Ok, Claudio, vieni da Palermo. Dai, parla un po' di te, dimmi la tua storia e tutto quanto. Allora, ho vent'anni, mi sono trasferito qui a Milano da poco, da circa nove mesi per lavoro, e mi trovo davvero bene qui a Milano. Ci piace Milano, guarda questa. La tazza di Milano. Milano, è Giacomo che sta facendo il video, lui è di... Roma. E' difficile abbattere Roma, questi roministi o quale cosa sono, sono molto seri, però io, Panatuno mi piace Milano. Ok, adesso farò una visita su di te. Per farlo, cominciamo con questo esame che è un EMG, usando questo sensore che è indolore, che ci darà informazione sui muscoli paraspinali. Quindi, per fare questo, tu devi stare, facciamo così, stai così e devi togliere la maglietta. Poi lo puoi metterlo adesso anche qui. Vediamo. Ok. Ok, indolore ci vuole solo due secondi. E come vedi, questa misura ha questo livello, la tensione dei muscoli. Poi andiamo giù all'altro livello. Poi andiamo a D4, potrebbe essere, lo sento T perché è thoracic. Poi T8 è sempre il dorsale 8. Ok, ti sposti un po' più sinistra. No, così, ecco. No, sto guardando la sua esame mentre sto facendo. È giovane, è molto sano, non è così male. E poi lo spiego. Poi T12. Poi L4. Ok, se si tenta il comodo, puoi rimettere la maglietta. E poi... Ok, mentre lui si mette la sua maglietta. O T-shirt. Ok, now, mi sposto qui così posso spiegare un po' questo anche a Claudio. Now, Claudio, quella sinistra è quella come dovremmo essere, dove i muscoli sono equicontrati. Questi sono verdi, così, e sinistra, a destra è come sei tu, esatto. Che devo dire che faccio questo tantissimo. Quel numero di stress è molto basso. Lui ha vent'anni, è molto sano. E viola è verde, che è la maggioranza, è tutto ok. Rosso è troppo contratto. E poi vediamo se c'è giallo. E giallo è troppo mole, non abbastanza contratto. Non è da buttare via, la mamma... Hai altri fratelli e sorelle a casa? Sì, sì, sì. Ok, la mamma... Un fratelli più piccoli. Va bene, possiamo tenerlo. La mamma può tenerlo. Ok? Non è da rotto male, una revisione. Ok, adesso... Io farò una visita su di lei. Ok. Ok, giro la schiena verso di me. Unisci i piedi. Non è niente che faccio fa dolore. Se hai qualunque domanda, mi fermi e mi chiedi. Se non puoi capire il mio accento favoloso, mi fermi anche là. Va bene. Chiudi gli occhi. Ok, abbastanza bene. Vediamo. Quando tocco, sei un po' più sensibile a destra? Quando tocco con il mio pollice? Sì. Ok, vediamo. Adesso fai un passo qui, vediamo, e giro verso di me. Unisci i piedi. Mettete le mani su, così. Chiudi gli occhi. E poi tocchi il naso con questo minino. Occhi chiusi. E tocchi il naso con questo... Chiudendo la mano? Giusto. Ok, uno. Qua è questa. Ok, non male. Va benissimo. Lascia le mani giù. Apri gli occhi. No, anche se la video può girare di là, tu stai fermo. Ok? Si vede che questo comunque è un po' più girato dentro di questo. So, questi muscoli qui sono un po' più contratto. Adesso siiediti qui, verso di me. Ok? Adesso faremo un po' di cose. Questa si misura la perfusione di ossigeno. E quante volte il suo cuore batte un minuto? Quando ho toccato la sua mano prima, si vede che è un po' nervoso perché è un po' bagnata. Sei nervoso, ansioso in generale? Anno. Ok. Questa è 99 di perfusione di ossigeno che è perfetto. E il suo batte del cuore è 99, è un po' più altino. Forse la prima volta che ci siamo conosciuti, sta facendo video, forse è un po' nervosino. Vediamo su questa parte. Sì, 98, 97, sì. Questa va bene, la perfusione di ossigeno sopra. Qui è un po' più alta, è soltanto perché è un po' nervosa. Adesso sta scendendo. Ok. Va bene. Mi muovo qui. Mi prendo questa, questa qui. Devo mettere i miei occhiali perché non ho 20 anni come l'ho, ho 52 e sono vecchio. O come Giacomo che è 25 e 26. Cosa hai ancora? 26. Gli giovani. Ok, adesso faccio così, così la video puoi vedere. Vediamo. Tu devi guardare in avanti. Ok. E io metto un po' di luce nei tuoi occhi. Ok. Apri la bocca. Fai ah, ah, ah. Ah. Ok. Ancora qui, lascia. Ok, non male. Lascia libera. Prendi un po' di riflessi, non c'è questa qui, è noia, voilà. Ok, per i pupilli vuoi vedere come si chiudono? Quella è una questione di come sta funzionando il sistema nervoso. Vediamo, vediamo i suoi riflessi. A 20 anni è quasi perfetto. Come si chiama mamma e papi? Mamma e Manuela. Manuela. Papa Nicola. Mamma, Manuela e Nicola l'ha fatto perfetto. Quasi perfetto. Noi ve lo curiamo qui a Milano. Il piccolo fratello vive ancora giù? Sì, sì, sì. Il mio fratello ha 6 anni, mia sorella ne ha 21. Oh my god, jeez. Sì, sì. Tanti figli giù. Pance in su. No, già vedo che lui ha il suo portofoglio indietro. Quando lui è così, o anche seduto, si scompensa il bacino. Non va bene. Puoi toglila? Ok. Ok, sì, la metti di là. Adesso ti soletico sotto i piedi e tu devi dirmi se le intensità sono di più uno o l'altro. Ok? O potrebbe essere uguale? Credo uguale. Ok, sì. Questa freddezza è uguale a questa? Sì. Ok. Adesso vediamo come si muove le sue vertebre. Mettiamo questa qui. Ok, so qui un po', lui ha un po' di dolore quando tocco. Ok, so è bloccata. Questa è C2. È bloccata in flessioni laterali. Vediamo altro. Non è male. Vent'anni. Manuela e Nicola? Nicola. Nicola l'hanno fatto bene. Non è molto stressata. Sì, è un po' bloccata anche a C5 qui in basso. Gira sul fianco qui. Anzi, puoi togliere solo la cintura? Sì. Di solito i pazienti sono inutanti e tutto quanto, ma sui vidi non possiamo fare questa roba qui. Ok, sì, la mettiamo di là. Perfetto. Gira al fianco. Lo alzo qui. Adesso un altro modo di vedere come si muove la vertebra zona lombare è di... Sì, è diverso modo di farlo. Anzi, il mio collega Federico Di Stefano fa così e mi piace. Ok. E puoi vedere, adesso sono su L5, L1 e quando muovo la gamba io vedo come si muove o non muove. Ok. So, già qui, senti che questo non si muove. Ok, non è così maluccio, sono solo qui. So, adesso... Io lo sblocco, senti un crac-crac, niente dolore. Ok, lascia libera. Ok. È andato benissimo, adesso vediamo che si muove. Ok, molto bene, molto bene. Ok, pancia in giù. Niente dolore, giusto? No, no, no. Ok. Una sveglia alta. Sì, suona un po' il rumore. Braccia? Le braccia puoi mettere qui. Ok, vai un pochino più giù. Ok. Adesso testiamo questi riflessi qui in basso. Lascia libera. Ok. Ok. Questo è un giovane sano ragazzo, un po' di blocchi, ma... Ok, anche qui non si muove e lui si sente un po' di fastidio. Inspira profondo. È fuori. Bravissimo. Ok. Quanto mi piace fare il mio lavoro. Ok. Gira verso di me. Parliamo del tuo lavoro, perché hai vent'anni, è importantissimo che scegli un lavoro che ti piace. Io ho scelto una vocazione, mi piace la mia. Ah, io ti anche. Ok, bene, bene. Ha vent'anni, ma questa è una domanda, diciamo, molto... Ancora, guarda questa, ha tante cose nelle tasche, questo ragazzo. Questa è una domanda, diciamo, molto americana o americanata. Dove vuoi essere in cinque anni lavorative? Cinque anni? Sì. Lavorative. Spero di fare tanti soldini. Guarda, facciamo, prima di vedere dei risultati, quale prodotto o servizio che tu vuoi dare al mondo per eventualmente avere i soldini? Perchè funziona così. Senta, dai, cric-crac qui, lascia libero, ecco. Ok. Benissimo. Pance in su. Uno dei miei sogni è avere una casa di produzione video. Ok. Film video. Sì. O una... Tu hai capito che siamo a vedere video da Giacomo che fa quel lavoro. Esatto. So tu dovresti parlare con Giacomo dopo. Oppure un managgimento di talent. Managgimento di talent. Potrebbe essere come, like, the Tony show? Arriva un attimo, Susi. Sì, quella mia segretaria, io vedi lei che sta per bussare, adesso non so che siamo a prendere video. Ok. Lascia libero qui. Bravissimo. E poi... Brava. Ok. Vediamo. Dai, stai in piedi qui. Ti piace, ti piace? Bellissimo. A me piace il mio lavoro e a loro piacciono riceverla. Vieni qui. Giro schiena, veste di da. A me dimentico, va benissimo così. We're done. Abbiamo finito. Claudio saluta anche tutti i genitori. Ciao, bacio papà. Ciao. 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 Grazie a tutti.